Pulite una cosa veloce, bella, saporita di questo periodo, è carciofra napoletana. Ora vi faccio il chef frango come fa, che odore! Un bello carciofra napoletana con olive nere, prezzemolo, aglio, ichimic, prudiglia al parier e l'aglio. Le foglie più dure le tolgete, poco poche gambette le tagliate e le pulite così, la parte più dura. Andate, faccio una salsina perché faccio pure dei bruschettini nei lati. Aglio al peperoncino, comprate questo che è un spettacolo. Bruschette, subite. Togliamo l'aglio. Guardate come si è bello, è un spettacolo, vi vedi che è da... Pocchissimo sale, mezzo bicchiere d'acqua. Lasciamo cuocere per una mezz'oretta. L'aggiunta delle bruschette che ho fatto io, fatele con questa bruschetta. Molestissima.